Una squadra dei vigili del fuoco della centrale di Novara nella tarda serata di sabato 21 settembre è intervenuta in corso Garibaldi per l'incendio di un container. All'arrivo dei pompieri le fiamme interessavano un container che si trovava in strada per contenere macerie e rifiuti a seguito di lavori in un'attività...